Ah questa è la nuova, allo Zingaro. Stiamo andando allo Zingaro. E questo è dell'altra che te ne fai? Eh no, ne uso due per fare i montaggi. Cioè non è che... Capito come vuoi niente? C'è chi uno dice che cosa ve ne faccia di uno. Quindi dove sta andando? Raccontale la telecamera di gioco. Stiamo andando dove? Guarda che stai in diretta. Stiamo andando a riserva dello Zingaro. Oggi giornata bellissima. Faremo i sentieri alti. Quindi una circunnavigazione Scopello San Vito. Che ora è? Sono le 8.33 e già abbiamo 20 gradi. Aspetta, ci sono 19 chilometri, no? Sì, circa 19 chilometri. Circa 19 chilometri di trekking al sole. È più o meno mille metri di dislivello. Ah mille? Io allora ho detto 600, 500. Ma dipende come si fa. 500 metri. Sì, circa 19 chilometri. Attos. Ciao. Ciao. Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.